Non è la prima volta che su questo canale mi trovo a pubblicare dei video di risposta, era capitato di fare un video di risposta a Fraos, a Que2 sul server, a PlayerInside, non era mai capitato di farlo a Falconero. Uno youtuber che è stato ospite anche qui su questo canale, Giocatore La Domenica, vi lascio il link qui nelle schede, recuperate quella puntata perché è molto bella, abbiamo chiacchierato amabilmente ed è uno youtuber che seguo. Ha fatto un ragionamento con il quale non solo non sono d'accordo, ma reputo anche nocivo per la nostra passione preferita. Ed è per questa motivazione che ci tengo a fare questo video pubblicamente, non serve scrivergli un messaggio, ma è veramente per me necessario fare un video pubblico per ribadire un concetto che altrimenti, secondo me, manderebbe un messaggio estremamente fuorviante. Falconero qualche giorno fa ha pubblicato un video chiamato Cyberpunk sarà più breve di The Witcher 3, è colpa nostra. Il link al video ve lo lascio nelle schede, andate a vedere il video se volete saperne di più, ma qui di seguito andrò più o meno a riassumervi i punti cruciali, ovviamente non voglio mostrarvi delle parti e decontestualizzare ciò che dice, perché il discorso va ascoltato nel suo complesso, però volendo ridurre all'osso i concetti espressi, dice sostanzialmente che Cyberpunk sarà più breve in quanto CD Projekt si è resa conto che non tantissimi giocatori hanno concluso The Witcher 3, e quindi lui dice, vedete, è colpa di noi giocatori, che non finiamo i giochi ed è colpa nostra che Cyberpunk sarà più breve. Insomma, spiegato in poche parole, quello che dice è questo. Tutto il video, insomma, è contestabile, però insomma vorrei focalizzarmi su un paio di punti, un'altra frase che reputo iconica, e cioè, ma una volta che li hai spesi 70 euro per in gioco, perché non lo finisci? Non ti sembra uno spreco, però non ricordo esattamente le parole, ma il discorso è questo, cioè non ti sembra uno spreco spendere 70 euro per un gioco che poi non porterai a termine? I concetti da chiarire sono due. Il primo concetto da chiarire è che, lasciando stare i videogiochi lineari, che chiaramente sono meno dispersivi di un videogioco open world, ma parlando di giochi open world, e parlando a livello personale, perché, ok, c'è una motivazione per cui ho concluso Skyrim e non The Witcher 3. C'è una motivazione per cui ho concluso Horizon Zero Dawn e non The Witcher 3. Per cui ho concluso Fallout 3 e non The Witcher 3. E la differenza è che questi videogiochi hanno una main quest più breve ed intensa rispetto a quella di The Witcher 3, che, effettivamente, ha una main quest che è molto lunga. Stiamo parlando, infatti, di una main quest che si attesta sulle 35 ore, che, se tu le piazzi in un videogioco lineare, ovviamente lo porti a termine. God of War l'ho concluso in 33 ore, quindi in The Witcher 3, fosse stato un gioco lineare, lo avrei portato a termine volentieri. Ma sappiamo benissimo che in un videogioco open world per ogni missione della main quest ne fai 5, 6 secondarie. Ed un videogioco come The Witcher 3, che ha delle sidequests così valide, ti perdi a fare le secondarie. E questo comporta che le 35 ore di gioco della main quest, spesso e volentieri, per poterle completare, devi contare su The Witcher 3 magari 90, 100 ore di gioco, 150. Per un videogioco come The Witcher 3, nel quale tu giochi 40, 50, 60 ore e ancora non lo porti a termine, ebbene, una persona, dopo 60 ore di gioco di The Witcher 3, pur essendo il capolavoro che è The Witcher 3, avrà il diritto di potersi annoiare. Caspita. Perché è colpa nostra? Non è affatto colpa nostra. E personalmente mi trovo d'accordissimo con la scelta di ridurre la main quest di Cyberpunk. Perché la ciccia vera in questi giochi di ruolo è data dalle sidequests. Quindi la main quest me la fai durare 19, 20 ore. Così la main quest la riesco a portare a termine se ne gioco 50. Se gioco 50 ore e una main quest di 20 ore probabilmente la porto a termine. Una main quest di 35 ore probabilmente complessivamente dovrei giocarci 80. Oppure rusharlo. E arriviamo al punto che per me è nocivo. Sento che in parecchi pongono come cosa più importante nel momento in cui si gioca un titolo il completarlo. Che non è vero. Perché dipende dal titolo sostanzialmente. Cioè se un videogioco dura 6 ore, è story driven e sostanzialmente devi giocare la storia, lo inizi, lo finisci, se non lo porti a termine non hai visto tutta l'esperienza. Ma su The Witcher 3 se io ho giocato non so quanto, 40, 50, 60 ore, non l'ho portato a termine ancora in 5 anni, sono colpevole, ma dopo 40, 50, 60 ore, so com'è The Witcher 3. Me lo sono goduto. Stammi a sentire. E come me, tantissimi altri giocatori. Che non hanno portato a termine il gioco, ma non è colpa nostra. Il gioco è bello, ci è piaciuto, ce lo siamo goduto, ma è lungo e non l'abbiamo finito. Inoltre, un altro concetto che per me è fondamentale comunicare, è che spesso e volentieri si parla sempre dei soldi. Ma non sono solo i soldi la risorsa preziosa che abbiamo, sono due le risorse preziose che abbiamo. Una sì è il denaro, ma l'altra è il tempo, caspita. Anche il mio tempo è prezioso. E nonostante apprezzi The Witcher 3, e ribadisco, è candidato numero uno a possibile gioco della generazione, ho tutto il diritto, dopo 50-60 ore, di stancarmi di giocare a un videogioco che comunque reputo eccezionale, avere tanta voglia di giocare a Cyberpunk, ma non per questo sentire a tutti i costi la necessità di giocare altre 50 ore a The Witcher 3, per doverlo finire a tutti i costi, semplicemente per poi non essere colpevole di aver finito un capolavoro. Non è così, secondo me, che funziona. Questo è il mio punto di vista. Mi sono sentito di fare questa video risposta perché è un argomento che ho molto a cuore. Io, e per me è una crociata a livello personale, il discorso che non è importante finire il gioco, è importante goderselo. Cioè è molto più importante godere il gioco rispetto a rasciarlo e vedere la fine. Ed è per questa motivazione che ci tenevo tantissimo a parlarne. Ti ringrazio che mi hai dato lo spunto. Ti chiedo di prendere questo video per quello che è, un video di risposta fatto con rispetto, da creator a creator, e invito ovviamente, insomma, la community a palesare il proprio punto di vista senza schierarsi da una parte e dall'altra, già che con Falconero c'è un grande rispetto. Grazie a tutti per l'attenzione e vi do un appuntamento, chiaramente, al prossimo video. Alla prossima, ragazzi. Ciao. Ciao.